Arriva la vittoria della Juventus negli ultimi minuti, una grandissima partita della Juventus Prima va in vantaggio, poi si fa recuperare, poi va sotto, poi pareggia e poi ribalta il risultato Una Juventus che secondo me ha problemi difensivi, che sicuramente nelle prossime partite migliorerà Perché questa vittoria gli darà grande stimo, soprattutto alla formazione di Massimiliano Allegri Massimiliano Allegri veramente nervoso in panchina e che gestiva la partita fino in fondo Ha levato pure il capotto, ha cercato in tutti i modi di sistemare la squadra E ci è riuscito e ha portato a casa questi tre punti importanti I punti importanti che se andiamo a vedere la classifica sono Quota 57 la Juventus, quota 52 il Milan e 63 l'Inter Che giocherà soprattutto stasera alle ore 18, mentre il Milan alle ore 20.45 Fra poco giocherà Cagliari Napoli Veramente la Juventus sempre lo tempo e sta bene Doppietto di Vlaovic che non si ferma Se ne avete i marcatori, Vlaovic va a quota 15 Gol di Rugani sull'assist di Vlaovic Veramente una bellissima azione che porta il 3-2 Alla Juventus formazione sempre nel 3-5-2 con Vlaovic Chiesa Dove Kevica non funziona ragazzi Chiesa non funziona È un giocatore che secondo me deve riprendersi Non trova soprattutto lo stimolo giusto per mettere in campo le proprie qualità Ma è un giocatore molto importante della Juventus Poi entra Ildiz a posto suo E quindi scambia un po' il gioco della Juventus E mette tre punte con Ildiz, Vlaovic e Milik Dove proprio queste tre punte creano soprattutto l'azione del gol Dove Rugani soprattutto segna un gol importante E ancora il difensore va a segno Vlaovic che non si ferma E in questo 2024 ha fatto veramente una grandissima salita Con quanto riguarda gol e assist Secondo posizione su tutti i casi film marcatori Una Juventus che se non è di migliorare tutta la fase difensiva E oltre alla fase difensiva Deve migliorare alcuni aspetti su tutto il centro campo E il reparto offensivo deve rispondere molto rispetto a oggi Che secondo me se non portava a casa i tre punti a Juventus E' veramente una brutta situazione Quanto riguarda Juventus Perché vi ricordo che nella classifica sta secondo posto Rallegri ha parlato della conferenza stampa Che devono migliorare E l'obiettivo è quello del secondo posto E la qualificazione in Champions League Ma si deve lavorare molto In le ultime cinque partite ha fatto due sconfitti Due pareggi e una vittoria Vittoria contro il Frosinone Che ricordiamo che è una bellissima squadra Una bellissima squadra che rischia Anche di andare Di essere risucchiato Tutto dalla zona dell'etrocessione E infatti è a quota 23 E che si resta a quota 23 Come l'Udinese E come il Sassuolo Che deve cambiare tutto allenatore E Verona Il Cagliari Oggi potrà giocarsi La chance di andare a quota 22 Se riesce tutto a fare un'impresa Tutto contro il Napoli Ma parliamo di questa Juventus E quanto riguarda i singoli Quanto riguarda i singoli Vlaovic E' veramente uno stato di forma pazzesco Ildiz Deve migliorare alcuni aspetti Alcazar Cagliari Deve migliorare Soprattutto La via del tiro Deve provare spesso Deve giocare spesso Secondo me Deve dare più spazio A questi giocatori allegri Soprattutto E quanto riguarda Il livello tattico E tecnico Che hanno a disposizione Che hanno a disposizione Tutta questa formazione Parliamo Soprattutto Della formazione Parliamo dei nuovi entrati I nuovi entrati sono Alcaraz Alcaraz Che soprattutto Entra Alla infortunità Biot Che si è fatto Un malaccio Tutto nelle piede E quindi E' dovuto uscire Proprio tempo Dove Si è trovato Il 2 a 2 Con Vlaovic E Vraimenti Un bellissimo Proprio tempo Dove ci sono stati Quattro gol Due Vlaovic Uno di Kedì E uno di Brescianini Che ha fatto Un bellissimo gol E Ora Alcumente Si deve Fare almeno Di rabbio Nelle prossime partite Che giocherà con Atalanta E Napoli Sono sbaglio Le prossime Sarà La prossima Sicuramente Sarà Il Napoli Andiamo a vedere Sarà il Napoli Il 3 marzo E poi ci sarà l'Atalanta Quindi due partite Impegnative Dove ha Tanto spazio E tanto tempo Per prepararle Rispetto A un Napoli E un Atalanta Che devono avere Alcuni E hanno altri Incontri Europei Quindi Tutto da vedere Tutto da dimostrare Ma una Juventus Che resta lì A secondo posto E quindi Non rischia Il sorpasso De Milan In caso di stasera Di vittoria Stasera Contro l'Atalanta E quindi Stanno lottando Quindi stanno lottando Il Milan Stasera deve dare La sua risposta Anche l'Inter Dà la sua risposta Contro il Lecce Ci sono alcune assenze Anche dell'Inter Fate sapere Cosa ne pensate Di questa Juventus E' una parola mia Ma è una Juventus Che ha avuto Una reazione Ma che deve Rimediare A alcuni problemi Sono tutti Problemi difensivi Problemi indifensivi E oltre ai problemi Difensivi Anche Deve migliorare Il Deve migliorare Sotto L'argomento Quanto riguarda Chiesa Che ancora Non riesce A Mettere L'impronta In questa Juventus E a dimostrare Le qualità Che ha a disposizione Ci vediamo al prossimo video Ragazzi Bella la vostra Pregame